Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo Siamo tornando a parlare della questione relativa alla nuova Pescara perché dopo la richiesta di Montesilvano e di Spoltore che vi abbiamo proposto ieri di posticipare la fusione anche il sindaco di Pescara Carlo Masci è intervenuto proprio sulla nascita della nuova Pescara Secondo il primo cittadino i tempi previsti sono sufficienti per l'unificazione dei tre comuni Giuseppe Dintino Io penso che in due anni si possano coordinare tutte le esigenze e si possa realizzare la nuova Pescara Quindi se lo chiede a me questa è la mia risposta Pescara si dissocia da Montesilvano e Spoltore I due comuni cosiddetti minori chiedono più tempo per la fusione ma per il sindaco del capoluogo non c'è alcun motivo valido per la proroga In base alla legge regionale del 2018 infatti la nuova Pescara dovrebbe sorgere entro il 2023 I tre consigli comunali hanno la possibilità di posticipare la fusione una tantum di un anno Montesilvano e Spoltore però chiedono almeno altri due anni aggiuntivi necessari all'unificazione dei servizi dalla Polizia Municipale alla raccolta dei rifiuti C'è qualche divergenza nel senso che io ritengo che la legge regionale debba essere applicata in pieno e che quindi l'ultimo termine debba essere quello del 2024 come previsto nella norma se ci saranno le condizioni per superare il 2023 che è la prima scadenza prevista attualmente dalla legge regionale Gli altri due sindaci ritengono che sia necessario più tempo per poter realizzare la nuova Pescara e questo hanno chiesto alla regione Ovviamente la valutazione sarà regionale perché la legge è regionale perché il processo è regionale di fusione e io ritengo che questo processo possa essere concluso positivamente entro il tempo stabilito dall'attuale legge regionale Ovviamente se si cambierà la legge regionale mi adeguerò Cambiamo argomento adesso a fare chiarezza sulla delicata questione che riguarda la carenza di pediatri è intervenuto l'assessore regionale alla salute Nicoletta Veri dopo che nei giorni scorsi a chiedere spiegazioni era intervenuto anche il Partito Democratico Non trova pace la situazione sulla carenza pediatri negli ambiti territoriali della Val Pescara e dell'area Vestina A far chiarezza dopo le proteste dei genitori a cui hanno fatto eco le accuse del Partito Democratico ci ha pensato l'assessore regionale con delega alla salute Nicoletta Veri La regione ha sempre messo in campo ogni azione utile per sopperire alla carenza di pediatri di libera scelta le parole dell'assessore e continuerà a farlo anche alla luce del nuovo accordo nazionale sottoscritto pochi giorni fa La regione nel rispetto degli accordi sottoscritti con le organizzazioni di categoria sta cercando di trovare una soluzione definitiva per questo l'assessore chiama in causa anche il governo nazionale e il ministro Speranza a cui è stata inoltrata una richiesta di parere che al momento non ha ricevuto risposta Il nuovo accordo nazionale conferma il precedente rapporto ottimale con l'istituzione di un pediatra ogni 600 bambini di età compresa fra 0 e 6 anni senza alcuna novità rispetto al 2005 La nuova intesa prevede che le regioni possano modificare questo rapporto ma solo nell'ambito dell'accordo integrativo regionale che deve essere dunque sottoscritto anche dalle organizzazioni di categoria dei pediatri Prevista anche l'istituzione di nuove sedi a livello di singole asle ma sempre dopo il parere del comitato aziendale ma in questo caso prosegue l'assessore Veri e facile il rischio contenzioso Va sottolineato come il rapporto tra i pediatri e le asle non è di dipendenza ma di convenzione dunque non c'è nessun obbligo nella scelta delle sedi di destinazione e così complice anche il calo demografico a risentirne sono soprattutto le aree interne per questo in sede di rinnovo dell'accordo integrativo regionale verrà sottoposta anche l'opportunità di rivedere i rigidi parametri per l'istituzione di nuove sedi L'assessore infine rimanda al mittente le accuse il Partito Democratico sta interpretando le disposizioni a piacimento è stata raggiunta Marsiglio per la prima volta a trovare un'intesa per aumentare il massimale dei singoli pediatri nelle aree dove si registravano disagi Andiamo a Teramo adesso due nuovi giudici e cinque impiegati a seguito degli incontri avuti nei giorni scorsi sono questi i primi provvedimenti presi dal Ministero della Giustizia per affronteggiare il grave problema della carenza di personale che affligge il Tribunale di Teramo Tania Bonnici Castelli La serie di incontri serrati tra i rappresentanti del Tribunale di Teramo prima con i vertici del CSM e subito dopo con quelli del Ministero della Giustizia ha portato a risultati concreti e sostanziali Il di Castero guidato da Marta Cartavia conferma l'arrivo a Teramo di due nuovi giudici e cinque impiegati L'ultima riunione a Roma è stata lunga e articolata alla delegazione guidata dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati della provincia di Teramo Antonio Lessiani il Capo di Gabinetto del Ministro Raffaele Piccirillo e i Capi Dipartimento hanno ribadito la prospettiva suggerita dal Sottosegretario della Giustizia Francesco Paolo Sisto e dunque garantito di fatto l'arrivo di nuovi rinforzi Ci hanno ascoltato e dato ragione afferma il Presidente Lessiani ma hanno anche confermato che le piante organiche non possono essere modificate se non su base nazionale Il tentativo di soluzione al problema passerà per l'assegnazione di nuovi giudici sulla base della pianta organica dissettuale dato che Teramo ha tutti i requisiti per farne richiesta in termini di arretrato delle cause turnover dei magistrati e durata dei procedimenti civili I bandi usciranno nei prossimi mesi e quindi tra la fine dell'anno e l'inizio del 2023 potrebbe già esserci qualche novità Inoltre a livello amministrativo è programmato l'afflusso di 5 impiegati nell'ufficio del processo di Teramo a supporto dell'attuale organico È un percorso difficile quello che abbiamo intrapreso conclude Lessiani ma Teramo in questo momento è oggetto di un'attenzione particolare Grazie alla nostra mobilitazione e a quella di tutta la categoria forense e della comunità dei cittadini Prima abbiamo parlato dei tre comuni che dovrebbero entrare a far parte della nuova Pescara Pescara, Montesilvano e Spoltore che stanno lavorando insieme e hanno vinto i bandi a cui avevano partecipato per ottenere i fondi del PNRR In provincia di Pescara dunque arriveranno quasi 6 milioni di euro destinati al sociale 5 milioni e 726 mila euro Questo è complessivamente l'ammontare dei fondi europei del PNRR a disposizione per il sociale Pescara, Montesilvano e Spoltore hanno unito le forze coinvolgendo anche altri comuni della provincia riuscendo a vincere così tutti i bandi a cui hanno partecipato Saranno finanziati 7 progetti volti all'inclusione di soggetti fragili e vulnerabili I tre comuni hanno lavorato insieme è stata una prima prova generale della nuova Pescara hanno detto gli amministratori Oggi c'è stato un po' un antipasto di quello che potrebbe essere la grande Pescara perché logicamente ci siamo seduti tutti attorno abbiamo eliminato qualunque forma di protagonismo cittadino abbiamo detto che abbiamo raggiunto un obiettivo vincere tutti i progetti che erano ammissibili perché immaginati che un progetto per sempre era soltanto per tre province soltanto per tre partecipanti in Abruzzo quindi se fossimo andati da soli o Pescara o Montesilvano significa ad esempio che non abbiamo vinto nessuno di due abbiamo fatto tutti un passaggio in getto ma non è stato difficile ti dico abbiamo guardato l'interesse pubblico e quindi è un momento di soddisfazione perché oggi annunciamo che abbiamo vinto tutti i progetti ammissibili candidabili dove ci potremmo candidare sono 5 milioni e 7 alcuni li facciamo insieme sia a Montesilvano che a Spoltore altri li facciamo soltanto con Spoltore altri li facciamo da soli siamo orgogliosi come comune capofila d'ambito perché ricordo che siamo l'ECAD 16 e siamo capofila d'ambito ed è stato molto interessante cominciare a sperimentare a lavorare insieme a due mani col comune di Pescara nella maggior parte dei progetti anche con il comune di Montesilvano ma siamo particolarmente felici di poter annunciare che è stato finanziato anche il progetto dove andavamo da soli come ECAD ed è un progetto che Città Sant'Angelo col sindaco e con l'assessore hanno voluto fortemente per il dopo di noi per dare una risposta a quella disabilità adulta che non ha spazi dopo i 19-20 anni e comincia ad essere difficile questo progetto dopo di noi soprattutto per la disabilità autistica vuole essere un aiuto e soprattutto un progetto pilota perché nella nostra provincia non ci sono sedi di questo genere Il Rettore dell'Università d'Annunzio di Chiedi sta avviando una partnership con le Università Albanesi per scambi di studenti e competenze lo ascoltiamo direttamente dalla sua voce i dettagli al microfono di Selenia Secondi A breve io ho un incontro a Tirana con il primo ministro e con i ministri dell'istruzione e della sanità per fare degli accordi bilaterali tra la nostra Università e l'Albania stiamo studiando dei progetti nuovi da fare accogliere da una parte gli studenti che vengono da quel paese dandogli delle forti agevolazioni come abbiamo fatto anche con gli studenti afghani e ucraini e stiamo vedendo anche di fare delle lauree a doppio titolo tra i due paesi quindi avrò questi incontri speriamo di riportare a casa qualcosa di positivo Quindi proprio non solo scambi ma proprio una partnership Assolutamente sì una partnership istituzionale che proporremo proprio al governo di Tirana I lavori all'impianto in riguo del Fucino proseguono come da crono programma lo afferma il vice presidente della regione Abruzzo Emanuele Imprudente che a giorni incontrerà Arap sindaci e portatori di interesse per aggiornarli sullo stato di avanzamento dell'opera Torna ad animarsi il dibattito relativo alla realizzazione dell'impianto in riguo del Fucino in occasione dell'incontro in prefettura per la stipula del protocollo siccità l'assessore all'agricoltura della regione Abruzzo Emanuele Imprudente ha mostrato il crono programma dei lavori ai sindaci dei territori interessati e alle associazioni di categoria ITER che ha destato perplessità insieme a Confagricoltura il direttore Fabrizi si è detto scettico sui tempi di realizzazione nelle scorse settimane i consiglieri di Fratelli d'Italia testa qua ieri da Nuntis erano intervenuti sostenendo che la regione sta salvando l'opera che rischiava di essere definanziata a causa dell'inerzia della passata giunta di centro-sinistra in replica le accuse lanciate dal capogruppo del PD Paolucci e la dura presa di posizione da parte del comune di Avezzano sul giallo dei 50 milioni sottratti all'impianto a causa della pandemia l'assessore Imprudente ha rassicurato che tutto sta andando avanti secondo il crono programma e ha annunciato un incontro imminente con Arap sindaci, consorzio di bonifica e portatori di interesse per fare il punto di come stanno procedendo i lavori si sta andando tutto avanti secondo il crono programma con quello che riguarda la progettazione che Arap sta insieme in concerto con il consorzio di bonifica sta rendendo esecutiva con tutte quelle che sono le fasi delle indagini specifiche proprio per arrivare alla definizione del progetto definitivo che poi sarà la base di gara per poter fare l'appalto nel prossimo futuro c'è un crono programma però anche per fine maggio faremo un punto specifico con Arap, con il consorzio di bonifica con i sindaci e con i portatori di interesse l'associazione di categoria proprio per definire e far conoscere quello che è il dato certo di come stanno le cose presentato ieri mattina l'evento Francavilla Fiori e Fragole che torna dopo lo stop dovuto ovviamente alla pandemia la manifestazione darà il via alla bella stagione l'estate bussa le porte e sulla soglia Francavilla al mare pone i fiori e le fragole sabato 14 e domenica 15 maggio andrà in scena la settima edizione di Francavilla Fiori e Fragole la manifestazione è volta a promuovere le eccellenze del territorio perché Francavilla non è solo mare ma anche colline e contrade ha spiegato la prima cittadina è una manifestazione alla quale tango in particolar modo sia perché dà il segnale della volontà di destagionalizzare il turismo perché siamo al mese di maggio e partiamo con una manifestazione che porterà a Francavilla tantissime persone e quindi andiamo verso la volontà proprio di allungare la stagione turistica e comunque è fondamentale per promuovere i nostri prodotti le nostre terre, fiori e fragole Francavilla non è solo mare ma è anche colline e contrade e quindi sarà bellissimo svolgere questa manifestazione sì sul lungomare, affacciandosi sul mare ma mostrando e vendendo i prodotti alla nostra terra Francavilla Fiori e Fragole dunque torna dopo due anni di stop dovuti alla pandemia parte della manifestazione è l'iniziativa Balconi Fioriti fino a luglio i cittadini sono chiamati a rendere Francavilla più colorata e profumata decorando balconi, davanzali, aiuole e giardini un concorso voluto per invitare tutti i cittadini a rendere più bello un pezzetto della nostra città se ognuno di noi fa la propria parte abbellendo i propri balconi sicuramente la città andrà verso quel maggior decoro di cui io sempre parlo tanto e tutti insieme possiamo fare la differenza domani sera torna la manifestazione dedicata agli sport da combattimento tanti gli atleti internazionali giunti a Pescara per sfidarsi i titoli del mondo di K1 e Muay Thai saranno in palio domani sera al Pala Giovanni Paolo II di Pescara una nuova edizione di Fight Clubbing la manifestazione dedicata al pugilato, alla kickboxing, alla Muay Thai e alle arti marziali miste tanti gli atleti da tutto il mondo che si sfideranno sul ring o nella gabbia il secondo anno sotto pandemia nello specifico perché quest'anno Fight Clubbing compie il decennale ed è l'ottavo anno non consecutivo che siamo qui in città nonostante la pandemia lo scorso anno siamo andati avanti abbiamo fatto un bellissimo evento a porte chiuse e quest'anno torniamo all'antica 2019 fu l'ultimo grande evento aperto al pubblico che facciamo al Pala Giovanni Paolo II adesso torniamo con un nuovo bagaglio tecnico, un bel upgrade a livello di atleti perché abbiamo dei campioni del mondo provenienti da ogni paese e ci aspettiamo un grandissimo pubblico che è un po' anche il segnale che ci stanno dando le prevendite quindi ci sono tutti gli elementi per un sold out domani al Pala Giovanni Paolo II Pescara così si riconferma un punto di riferimento per gli sport da combattimento sempre più compresi e apprezzati dal grande pubblico Pescara per l'ennesima volta si propone come epicentro di tante discipline e oggi siamo qui a presentare forse il più grande spettacolo di sport da combattimento in Italia avremo 28 atleti provenienti da tutto il territorio nazionale e per il secondo anno consecutivo il Giovanni Paolo II ospiterà questo grandissimo evento internazionale e questo servizio ci introduce alla pagina di Sport Serie C si è chiusa ieri sera la deludente stagione del Pescara costretta a vincere per superare il turno la formazione bianca-azzurra viene invece battuta a Salò dalla Feralpi per 2 a 1 inutile la rete nel finale di Clemenza dopo quelle di Guerra e Siligardi che avevano indirizzato il match verso i Leoni del Garda ad inizio ripresa vediamo il servizio di Paolo Renzetti e subito dopo le dichiarazioni dell'allenatore Luciano Zauri termina sulle rive del Lago di Garda la stagione del Pescara che con la Feralpi esce dai playoff dopo il 3-3 dell'andata ci sarebbe voluto un miracolo che però non è arrivato nonostante la generosità vista anche in terra lombarda ma non sempre in campionato nella stagione regolare passa il turno così la squadra di vecchi che aveva due risultati a disposizione che ha tratto giovamento anche delle assenze in casa bianca-azzurra e dalle condizioni non ottimali di molti giocatori del Delfino seppur in formazione rimaneggiata il Pescara però ci ha provato il fino in campo con il 4-3-3 in attacco c'è Dursi dopo l'accoglimento del ricorso ospiti con il 4-3-1-2 in porta c'è Liverani al posto dell'infortunato De Lucia a sorpresa Di Molfetta va in panca avvio con piglio deciso dei bianca-azzurri che spingono subito forte gara nervosa in campo sin dall'inizio con il tecnico della formazione lombarda monito per proteste dopo dieci minuti la prima emozione del Turin arriva al diciassettesimo quando su cross dalla destra di Miracoli Balestrero va a concludere da posizione pericolosissima mancando il bersaglio grosso di un nulla al ventesimo Siligardi per i locali con un missile dopo un errore di Giambò colpisce la parte alta della traversa della porta di Acobucci secondo campanello d'allarme per il Pescara con la Feralpi che cresce gradualmente costringendo i ragazzi di Zauri alla difensiva al ventitresimo ancora Siligardi da prima del limite mette la sfera sopra la traversa soffre soprattutto a centro campo il Pescara che pur facendo possesso palla non riesce a pungere con Liberani ma impegnato al quarantunesimo l'estremo difensore di casa viene però salvato dal palo con Cernigoi che dopo un'ottima apertura di inzita è sfortunato andando a colpire i legni della porta lombarda al quarantaduesimo la risposta locale affidata a Carraro che sfiora il montante della porta abruzzese tutto qui il primo tempo con l'inizio di ripresa equilibrata fino al sesto quando dopo un'azione insistita la palla termina a guerra che con una conclusione a mezza altezza supera Acobucci per l'1-0 Lombardo festeggia l'attaccante sotto la tribuna del Turina mentre scende il gelo in casa abruzzese all'undicesimo così ancora la squadra di Vecchi con Miracoli a mancare il bis che arriva poco dopo l'ingresso in campo di Ferrari e Clemenza per Raudi e Memusciai e Siligardi al quattordicesimo infatti a bucare ancora la difesa pescarese segnando il raddoppio che fa di fatto calare il sipario sulla stagione del Pescara male il Pescara vittima dei suoi limiti al diciottesimo ci prova Iglianes sugli sviluppi di un angolo con la palla che finisce fuori la prima parata del portiere di casa arriva così al ventunesimo quando Liverani devia in angolo un tiro velenoso di Pontisso troppo poco per il Pescara che perde coraggio e soprattutto la consapevolezza di uscire ormai dai playoff il trascorrere dei minuti infatti avvicina solo il passaggio del turno dei padroni di casa anche se al ventinovesimo Luca Clemenza su punizione fa 2-1 rendendo la pillola un po' meno amara anche perché poi fino al novantacinquesimo non accade praticamente più nulla con il Pescara che perde per 2-1 e saluta la stagione e da domani si inizierà a pensare al prossimo torneo e al futuro con tanti punti interrogativi anche sul fronte societario in attesa di capire se e quando arriverà un eventuale cambio di proprietà con una squadra comunque sia totalmente da rifondare la piazza di Pescara merita di più usciamo da questi playoff con un grande rammarico insomma complimenti a loro che hanno fatto due buone partite noi non abbiamo fatto male secondo me ma è chiaro che per andare avanti bisogna fare qualcosa di più sicuramente oggi ancora due gol ovviamente evitabili però ripeto io questi ragazzi me li tengo stretti non voglio addossare colpe a nessuno anzi la responsabilità ovviamente è la mia e ripeto i ragazzi sono usciti a pezzi si può sempre dare di più ovviamente ma oggi dal punto di vista di impegno non posso provare niente ai ragazzi è chiaro che quando commettiamo errori e puntualmente prendiamo gol poi diventa difficile vincere le partite ma è appena finita quindi è un discorso che non abbiamo ancora affrontato col presidente insomma la mia disponibilità è totale ovviamente adesso lasceremo sbollire un po' la situazione che ovviamente è lì ancora da fare però insomma vediamo, parleremo col presidente ho da rifondare no, penso di no è vero che ci sono molti prestiti per cui è chiaro che andranno riviste alcune cose la base secondo me c'è bisognerà vedere poi ovviamente chi rimarrà dei ragazzi in rosa per poi vedere è chiaro che se potessi incidere dall'inizio qualcosina in più farei ovviamente non è stata sicuramente una gara facile né all'andata né al ritorno però credo che nell'arco delle due gare abbiamo meritato sicuramente il passaggio del turno abbiamo giocato bene, abbiamo fatto delle buone gare sono stati molto bravi i miei giocatori anche oggi soprattutto a non accontentarsi di gestire una gara e meritatamente abbiamo passato il turno questi 180 minuti sinceramente le chiedo si aspettava qualcosa in più dal Pescara? mi aspettavo un Pescara così con giocatori di grande qualità e che avrebbero potuto metterci in difficoltà dietro creando tante occasioni da gol oggi in realtà abbiamo concesso anche poco e siamo stati molto bravi Nel Serie D adesso il pari nel derby non è stato risolutivo Pineto e Chieti sono ancora in piena lotta per i rispettivi obiettivi la squadra di Amaolo cerca punti per i playoff quella di Lucarelli per blindare la salvezza domenica per il Pineto trasferta a Tolentino mentre i Nero Verdi riceveranno il Trastevere il punto di vista dei due allenatori Amaolo e Lucarelli Un 1-1 che probabilmente non soddisfa pienamente il Pineto che in chiave playoff serve a poco però avete recuperato una partita che il Pineto stava perdendo nel primo tempo Sì, adesso se serve questo punto lo vedremo più avanti adesso analizziamo la partita è stata una partita difficile contro il Chieti con un'ottima squadra gioca un buon calcio e i ritmi non erano altissimi perché è normale con il primo caldo stagionale poi i partiti così ravvicinate e noi facciamo un po' più fatica anche delle altre squadre perché giocando sempre con gli stessi uomini qualcuno, come ho detto in altre circostanze non è al meglio della condizione per noi è stato un risultato importante che dà continuità e adesso abbiamo qualche giorno in più per riposarci e poi andremo a Tolentino a giocarci le nostre chance a un punto potrebbe essere poco o tantissimo in questa fase del campionato la classifica è cortissima si lotta per degli obiettivi importanti siamo tutte lì ma ci sono ancora sei punti in palio penso che la lotta playoff e playoff si rigenerà l'ultima giornata quindi questo punto potrebbe essere niente o tantissimo cerchiamo di recuperare le energie fisiche e mentali per questa partita ci sono tre punti in palio importanti cercheremo di fare una prestazione importante per portare via quella vittoria che ci possa dare una posizione migliore di classifica alla fine bisogna prendere quello che arriva è chiaro che il primo tempo abbiamo fatto molto meglio del secondo abbiamo fatto bene i primi 10-15 minuti che abbiamo secondo me sprecato delle occasioni delle situazioni che dovevamo avere una lettura diversa per poterla chiudere perché secondo me fino a quel momento la partita era in pieno controllo un episodio perché solo un episodio ha rimesso in corso una partita la partita e a questo punto ci prendiamo il punto e lo portiamo a casa l'idea era di gestire un po' meglio la palla di non aver paura di gestire il pallone perché con questi caldi in realtà devi cercare di far correre un po' di più la palla cioè è la palla che devi sudare altrimenti se corri indietro se corri con la palla al piede rischi di consumare tante energie diciamo che abbiamo consegnato un po' troppo la possibilità a loro di giocare con questi lanci lunghi che ci facevano abbassare noi avevamo la capacità di ripartire o meglio eravamo ripartiti nei primi 10 minuti secondo me un paio di volte però poi come se aspettavamo perché vedevamo che comunque il Pineto non era assolutamente pericoloso quindi ci siamo un pochettino accontentati secondo me abbiamo avuto un po' il braccino corto e questa cosa un po' mi spiace innanzitutto la salvezza ancora purtroppo non si può parlare perché la realtà è che abbiamo tante squadre che stanno adesso a tre punti e domenica si scontrano poi ho visto dei risultati un po' alquanto strani però che casomai in un altro momento del campionato diciamo inaspettati quindi noi dobbiamo assolutamente fare ancora punti domenica e noi comunque entriamo sempre per vincere la partita che sia con la prima e con l'ultima poi delle volte ci riesci delle volte un po' meno però è chiaro che con Trastevere la partita per noi è importante è importantissima non possiamo uscire senza un risultato positivo da questa partita di domenica è chiaro che proveremo a vincere la partita per chiudere il discorso perché è vero che la zona play-out si è alzata ancora ma si è abbassata anche quella play-off quindi alla fine noi proviamo prima a salvarci perché vi dico che veramente come vedete fino all'ultimo alla fine ci la faremo però c'è bisogno di fare un altro sforzo e di stare concentrati volley adesso attesa frenetica per la finale dia 3 domani nell'anticipo delle 20.30 esordio in gara 1 dell'Abbapinetto sul parchè di Prata di Pordenone tappa fondamentale prima di gara 2 in programma domenica 22 alle 18 ingresso un euro al Pala Santa Maria eventuale bella di nuovo in terra friulana giovedì 26 in B1 femminile nei play-out per la salvezza domani alle 18.30 la Teatina Chieti sarà ospite per gara 2 dello Iesi le neroverdi che hanno battuto 3 a 1 all'andata le marchigiane possono anche perdere al tie-break in caso di sconfitta da 3 punti si andrebbe al Golden Set una frazione secca a 15 in B2 il Teramo affronterà domani al Pala Acquaviva alle 20 il Como per la prima gara dell'ultima fase dei play-off per salire in B1 il padel internazionale con il torneo FIP Promotion farà tappa a Giulianova dal 16 al 22 maggio l'iniziativa sarà ospitata nel complesso Cicco Padel sul lungomare Zara le anticipazioni di Fabio Fiorà Presidente del Comitato Organizzatore la 16 al 22 maggio faremo un torneo internazionale denominato FIP Promotion Giulianova FIP sta per Federazione Internazionale Padel diciamo che il nostro torneo è la base il primo torneo internazionale che si può organizzare diciamo in questi circoli nei circoli un po' picchino più piccoli come partecipazione si possono iscrivere da 70 del mondo in poi non può iscriversi il lebron della situazione chiaramente però ecco la partecipazione è già molto nutrita prevediamo almeno 25-30 coppie da tutto il mondo quest'anno si sono aggiunti oltre come diciamo gli spagnoli argentini anche Cremona Cassetti campioni del calibro che fanno parte della nazionale italiana che ricordiamo l'anno scorso è arrivata terza ai mondiali a squadra io vi invito a venire da noi a vedere il padel internazionale dei campioni sono un padel completamente diverso da quello che vedete nei centri sportivi tutti i giorni perché è un padel giocato da professionisti che si allenano tutti i giorni per fare il monte premi sarà di 3500 euro diviso in 2300 euro per il maschile e 1200 euro per il femminile daremo ospitalità dai quarti di finale gratuita e un rimborso per il biglietto aereo per le spese di viaggio di 100 euro le iscrizioni sono aperte il termine ultimo per iscriversi è lunedì 16 alle ore 12 per iscriversi bisogna collegarsi al sito della federazione internazionale padel quindi potete cercare su google fit padel cercate il nostro torneo c'è il modulo di iscrizione dove potete inserire il numero di tessera fit perché è sì un torneo internazionale ma è comunque un torneo nazionale italiano open aperto a tutti quanti anzi con con un moltiplicatore per la classifica italiana molto molto alto prima di chiudere l'emittente TV6 informa che intende diffondere messaggi autogestiti a pagamento per le elezioni amministrative 2022 fissate per il 12 e 13 giugno e referendum fissati per il solo 12 giugno a tal fine informa che nella sede di Silvi via nazionale adriatica nord numero 26 numero di telefono 085 93 00 20 è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente la trasmissione dei messaggi il numero massimo dei contenitori predisposti la collocazione nel palinzesto gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale con questa comunicazione si chiude la prima edizione del nostro telegiornale io vi ricordo che i nostri servizi sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it oltre che sulle nostre pagine social prossimo aggiornamento alle ore 19 grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata grazie per l'attenzione